Nuova la stagione e nuova anche la divisa per il Cesena. Per il terzo anno di fila è stata la casa nipponica Mizuno a occuparsi della genesi di una tenuta che accompagnerà il club romagnolo per tutto il campionato di Serie C. Il nostro auspicio è chiaramente quello di continuare questo accordo con il Cesena perché lavoriamo con una delle società più prestigiose in Italia, una società dove i tifosi hanno un attaccamento alla maglia e al cavalluccio stesso che è difficile trovare in altre zone d'Italia. Quindi per noi questo è motivo di orgoglio perché quello che vogliamo è che il tifoso si riconosca anche un pochino in Mizuno. Quindi chiaramente per noi Cesena è una piazza per veicolare il nostro brand e per far vedere che siamo ancora più vicini a questa piazza. Confermata anche la sponsorizzazione di PLT Pure Green per il quinto anno consecutivo. L'auspicio mio ma anche della proprietà è che sia la nostra società, quindi sia PLT Pure Green e sia il Cesena sappiano trovare in questo momento quell'energia reciproca che poi ci sarà di aiuto e ci condurrà in questo fine 2020 e soprattutto nel 2021. La resa è particolarmente efficace con diversi elementi di novità che riguardano soprattutto la colorazione nera della parte superiore della casacca. Rappresenta un po' un'unicità di quelle che è stata un po' le grafiche utilizzate nella storia del Cesena e anche nella storia comunque del calcio. Nelle annate fine anni 70 ai primi anni 80 diciamo che abbiamo avuto una rottura tra quella che era la classicità dei modelli e l'originalità di quelli che poi hanno contraddistinto anche la maglia che abbiamo presentato oggi.